Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Undertale Se non sbaglio, ci eravamo fermati qui al core Che sarebbe quella grandissima cosa Vediamo un po' cosa si dice Niente, niente, non dice nulla, è muto R1 PS4 Accendi il joystick R1 Seleziona una locazione Bello l'inglese, bello Davvero, locazione Io mi butto dalla finestra tra poco, sul serio Tu cosa sei? Un spiritello del fuoco di Clash Royale? Ehi, sono It's Flamesman It's Flamesman Oh, ricorda il mio nome Ehi, sono Sì, ho capito che ti chiami così Vediamo ora Vediamo, 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 ti richiamo Ehi, sono Lo so che ti chiami così Eh, basta Non mi dice niente E tu? Amo gli hot dog Ehi, non è Cosa? Non è strano che ci sia della neve sul tetto di quel tizio? Eh, penso che sia talmente piro che non vuole pulirla È la mia controparte, sense Ehi, amico, come va? Vuoi comprare un hot dog? È solo 30 G 30 gold Ah Sì, credo che Sì, dovresti risparmiare i soldi per Per il college e per i ragni Eh? Eh Eh Cosa? Ah, pane tostato Sì, perché questo qua è un vulcanetto e quindi Vediamo? Vuoi comprare un hot dog? Vediamo un po' se dice sì Grazie Grazie, ragazzo Ecco il hot dog Sì, dog Apostrofo dog È la cosa più corta per Sì È l'abbreviazione di hot dog Fu serio? Vuoi comprare un hot dog? È solo 30 G Eh, stai portando troppo Credo Credo che te lo metterò in testa Ecco un hot dog Eh? Ah È solo a casa Ah no, è su di te Ecco Abbi 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 Divertiti Ecco Divertiti Ah Andiamo avanti così Oh mio Dio Stiamo facendo una torre Stiamo facendo un'altra torre gemella Che tra l'altro arriva un aero a buttarci da giù Dai Io sto spammando come uno schifo Dai, dai, dai Eh? Sarò a fare con te Sì, mi piace mettere hot dog sulla testa della gente Eh 30 è davvero troppo 29 Ok, ora va bene Ma 30 Eh? Sembra Ti sembra che le mie braccia possano raggiungere quell'altezza? Beh, in effetti Non hai tutti i torti Noo La mia vita non ha più senso Ho perso gli hot dog sulla testa Ora Mi sembra troppo tranqui Stai Vitto Il mio subconscio Il mio subconscio Eh Cena con la mia ragazza Cos'è? È l'immagine di una Catgirl Della figurina di una catgirl Accanto a una A una ciotola di Instant Di Di noodles Ok Cool skeleton Non ho capito chi è Stiamo Stiamo mettendo foto Spinte Ecco La mia È del mio Amico Ma che cazzo È un'immagine di papà Eros che sta Posando davanti a un A uno specchio E sta indossando Occhieri da sole Eh Ma che cazzo Eh Grossi vicipiti Sono disegnati Sulle sue braccia E anche i vicipiti Stanno indossando Occhieri da sole Master of photoshop Pirop È davanti a te Ok Eh Scalda Eh Alzi il termostato E Pirop Comincia a essere Comincia a divertirsi Ah Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Non si è arrivato Ah Di più Non vedo nulla Eh Sì È super Car Tiri sul termostato È super Caldo Eh Sembra soddisfa Oh Ppsichedelico Che No 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 Bravo Bravo Veramente Non puoi Sì sì Ok Stai Determined Esatto Sto coglione qua Io ho detto Ok Alzo il calore E mi ammazza Ok Stavolta Stavolta Non mi trolli Però Stavolta Non mi tro Ok Forse sì Forse sì Wow Che psichedelic Tannissimo Eh Cos'era Avevo detto La stanza Si sta sciogliendo Qualcosa di simile Alfe Eh Eh Lol Cuskietto 95 È uno scherzo Vero Cosa Adesso Rispon L'unico Scherzo Qua È di quando Sono forti I miei muscoli È decisa Me Tatatatà Tatatà Che figo Artclub Incontro qui Il prossimo incontro Ottobre 10 ottobre Alle 8 interessante item usiamo il nice cream usa ex i che ho quindi ok 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 adesso e mo e mo che ci faccio di qua si questo qua era un non è incantato torniamoci indietro o no art club questo qui ricordatevelo per quando faremo la prossima run capitò napsa block 22 che ha inviato una richiesta di amicizia l'accetti ovvio che l'accetto sembra che che l'abbia rifiutato da solo davvero c'è un app un crembioli mi sembra che è per terra lo prendi ovvio che lo prendo perché mi piacciono i grembioli e ticismo per i grembioli stein ed ok ha equipaggiato la prom detto anche grembiole detto anche no mi viene in mente nient'altro e indovina un po chi chiama e dottor altis no non lo sapevo e quel puzzle è abbastanza difficile credo che abbia detto non so team in base cosa voglia dire ma vuoi le leve la sopra devi devi premere dentro tre secondi cerco di cercherò di aiutarti con ritmo click 123 ma io ti odio ok ora premi la terza e sembra che tu sembra che tu dovessi solo premere due in che senso no io voglio premere la terza vaffanculo sembra che tu abbia premuto solo due di loro due tre vabbè io ho voluto premere lo stesso ma non serviva non so mi sa che abbiamo cominciamo con gli enigmi qua eccomi ti prego basta è l'ultima volta che provo ad aiutare qualcuno con i puzzle mao continui a chiamarmi allora ehi sto andando al bagno quindi quindi sarò via per un po' sì mia vabbè via se il senso è quello è io ho sicuro che tu puoi che tu puoi gestire questo puzzle da solo click finalmente ora a qui posso sbagliato colpa mia giù ecco non cambia niente bello su dobbiamo andare se non sbaglio due no uffa 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 e qua sì che mi casino due tre ok io ci provo così aspetta uno dicevo due no dobbiamo no metrò lato così no così non risolviamo niente no come faccio qua qualcuno ha un'idea no giù poi dico a così non me ne ho accordo che si può andare che di qua piano ok 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 qua giù ho capito di qua dopo vai di qua se non sbaglio veloce 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 andiamo super high speed no non premere si vabbè tanto vale premere giù no ho sbagliato sbagliatissimo non dovevo premere a fare niente fa niente fa niente ora capite non premete non premete fate quello che ho fatto no ho sbagliato giù clic non vedo soluzioni non vedo soluzioni qua qua e ora qua non è piccolo ceco cosa faccio qua vado a guardarmi le soluzioni su youtube ma sul serio cosa faccio ora taglierò la parte oppongo resistenza non voglio andare vabbè ormai non vedo soluzioni sui ho trovato no no ve lo faccio rivedere ve lo faccio rivedere che così capite meglio se no qua mi mandate a fare letteralmente allora fate così no così bene ora quando punto in giù voi fate così poi tornate su andate qua qua tac e abbiamo trovato sistema meglio così come su un po per tipo 5 minuti oh my god people penso la gente pensa che il mio mio 2 è meglio di mio mio 1 no questo è uno scherzo siccome la gente che dice ma cos'è aspetta e ma darksus 2 è peggio di darksus 1 perché è uscito prima stessa roba ma di tutti i giochi ma di tutti i giochi il 2 il 1 è meglio del 2 perché è così sapendo che il topo un giorno potrà a creare il creare la password e prendere il formaggio ti riempie terminazione chissà perché ah ah c'è un pezzo di romaggio dentro questo questa casaforte computerizzata i laser hanno a con i laser i laser hanno sciolto i bordi del formaggio e attaccato alt non è non dico nulla oh my god eh non hanno capito che rovinano i personaggi di mio mio arc non ho capito eh la mia la mia recensione di mio mio 2 mio mio kissy cutie 2 è è niente di meno che kissy non cutie è è spazzatura 0 stelle cos'è recensioni trip advisor che è 0 stelle ehi tu fermati sono fermo noi abbiamo ricevuto ha ricevuto un avviso anonimo di un umano che indossa una maglia a righe ci hanno detto che ci hanno detto che gira per le hotline proprio adesso lo so è spaventoso vero beh tranquillo ti potremo ti potremo assicuro ok sì sì brutta razza gli umani sì però dovete farli fuori tutti cos'è la maglia che stai indossando dico che cosa oh oh io scappo ehi stai pensando cosa sto pensando io mamma questo è è molto immarazzante noi veramente dobbiamo ucciderti beh l'hanno presa beh l'ha detta con una filosofia tale che madonna tutti 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 Dante e Petrarca Boccaccio Socrate tu tutti fuori dai coglioni questi due qui sono i nuovi i nuovi filosofi non c'entra un cazzo lo so ma prenderla con filosofia is the new fare fare poesie siete liberi di sputtanarmi nei commenti cosa devo fare a rg rg1 la cazzo sono nero boh ah clean armor ah tu cerchi di toccare l'armatura di rg1 ma le tue mani scivolano ehi giù le mani della mia armatura oh che cavolo è star wars letteralmente ti sparano le stelle ok 0 1 sta in guardia e allora pulisco la quella dell'altro pulisci l'armatura di rg2 che questo qua mi sembra questo qui se non vedete e lo sporco se ne va e lo sporco se ne va che ehm mastro lindo wow ah devo stare nel verde mi sembra fatto non posso sopportarlo l'armatura è troppo calda mi trasmetterà la la molto meglio rg1 sembra a disagio qualcosa di simile whisper fate whisper dici di rg1 di essere onesto con i suoi sentimenti io ok non sanno cosa dire non sanno cosa dire è il momento giusto per ucciderli alle spalle geno sai ehi non posso non posso sopportarlo ancora di più non non così dico due dico basta a mi piaci fratello il modo in cui combatti il modo in cui parli e amo i gli attacchi squadra con te mi piace stare qui con te e ondeggiando le nostre spalle sono consapevoli di tutto mi piace il modo di stare con te per sempre allora almeno non sono omofobi possiamo dire che under te non è omofobo questo va bene intendo sì bella fratello è uno vero uno come i nomi però è sì vuoi vuoi prendere un gelato dopo questo il sicuro stanno si stanno guardando fight no non è c'è un luogo e un momento per ogni cosa ma non ora cento di oro ma è stata una constatazione amichevole tra due guardie a un secondo che sta facendo l'umano non chiamarmi non chiamarmi non chiamarmi non chiamarmi lo che non mi ha chiamato top ten a top ten show che ti faranno dimenticare il tuo maledetto lavoro non chiamarmi non chiamarmi non chiamarmi non chiamarmi perché ce l'ho fatta non mi ha chiamato però siamo nel buio mi ha chiamato il mondo sta per finire ehi ok sono tornato un'altra stanza buia non preoccuparti le mie skill di hacker sono le mie skill di hacker sistemeranno tutto sono in tg5 che figo sì serio oh sì buonasera a tutti signore e signori questo è metatone da proprio al live live da metatone news una situazione interessante si sta svolgendo nella nella hotland est forse ovviamente il nostro nostro mandato è proprio lì che sta trasmettendo il live come si chiama a no e si nostra invia avanti inviato dacci qualcosa da 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 trasmettere da riportare i nostri dieci i nostri dieci spettatori ci stanno aspettando il basket il basket è una figata vero peccato che non puoi giocarci e metatone a sono sono pali da basket di di marca metatone da indossare non da giocare ok non puoi diventare ricco e famoso come me senza senza migliorare un po di cose e reportare si ok attenzione 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 spettatori il nostro inviato ha trovato una basket ball si basket ball e cerchi di divertimento orbe di gioia sfere di amusement ma non dovresti giocarci è una metatone fashion ball è la sua manutenzione è necessaria per tenerla buona per tenerla bella come puoi vedere come puoi vedere l'esposizione del calore dell'umano causa la causa lo sciolimento della della pittura punto 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 aspetta un secondo non è una parola non è una parola basket è una bomba o cazzo no via no questa è una sport review sta diventando una short review maddo ma che battute no perché tu finirai tra poco dopo che esploderai ma non non agitarti non hai ancora visto il resto della della stanza ma che cavolo ah ah oh cavolo sembra che tutto in questa area è una bomba quel cane una bomba quel cane una bomba anche nelle parole sono delle bombe ma tutto proprio tutto ha inviato se non disattivi tutte le bombe questa grande bomba far esplodere tutta la zona in due minuti e non sarai più e non fare più report in live dal vivo ma dio si sparo queste battute che te che cosa terribile che cosa disturbante i nostri i nostri nuovi spettatori amaranno tutto questo buona fortuna si non preoccuparti ho installato una ho installato una disinnesca bombe sul tuo telefono usa l'opzione usa l'opzione disattiva quando sei nella zona di disattiva disattivazione ora vai a prendervi facilissimo è facilissimo item cosa devo fare cosa devo fare cosa devo fare cosa devo fare act e defuse bo no defuse failed maledetto zzzzz no 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 e defuse defuse no defuse via 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 bel lavoro vai a prendere il resto eh left ok no 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 left ho letto male male basket piano presa tempo 72 dai che stas for tutto maledetto 5 bombe mancano ancora no 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 e tutto sbagliato tutto cos'è alla bomba pover bomba maledetto te come ho fatto a prendere tempismo l'unica 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 volta che ho tempismo qua via 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 cos'è quella razzo maledetto hai defuse la bomba defuse a mila bomba dai vai 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 no come come failed 30 secondi 30 secondi no nazione dai tic tic dai fai qualcosa veloce 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 come defuse faded l'avevo presa toc toc a tic toc non c'è rimasto arrivati presa 16 secondi 16 secondi maledetto non avevo presa ora il regalo dai questo qua non è difficile presa 9 secondi ottimo lavoro vai al centro userò i userò i cambi di forza per intrappolare il bicchiere d'acqua il bicchiere d'acqua una bomba sette secondi sette secondi sette secondi defuse la estremi estremamente agile bicchiere d'acqua preso fine pensavo di non farsela ottimo lavoro hai disattivato tutte le bombe ma non hai dimenticato se non l'avessi disattivate tutte la grande bomba sarebbe esplosa in due minuti ora non esplodere in due minuti esploderà in due secondi addio ma quanto ti odio brutto mi ricordi un gameboy scroso credo che le abbia fatto effetto sembra che la bomba non esploderà è perché mentre tu stavi parlando io ho sistemato ho cambiato hai disattivato la bomba con le tue skill d'hacker si ho fatto questo maledizione sembra che io abbia fallito di nuovo maledetto te maledetto te dottor alfis per aiutare troppo ma ma non maledisco i miei otto spettatori ma non mi dico i miei otto spettatori alla prossima se la siamo vista brutta in effetti si sembrava davvero strano all'inizio ma penso che penso che sarò più confidente con te a proposito di guidarti dunque quindi non preoccuparti di quel grande maledetto robo ti proteggerò da lui e se tornerà possiamo semplicemente spegnere niente alla prossima e se non avevo la frase completa io non capivo a si può passare o no a non si va di qua ho detto che che è che stavo in mezzo devo farlo esplodere e si va si va a destra si destra poi si va in alto che crea un corridoio di pietra di nuovo il nucleo il core ancora più figo non nucleo dimmi ho visto che sei abbastanza tranquillo sei preoccupato a proposito di incontrare asgore beh non preoccuparti ok direi anche una brava persona sono sicuro che tu potrei parlargli e ecco la tua anima umana potrei passare attraverso la barriera quindi non preoccuparti ok dimenticati e sorridi dimentica e sorridi sì ma voglio prima vederlo re io spero sia una roba tipo vander in rs2 che è un mezzo non morto rincoglionito che che gira in tondo a left floor right floor voglio trovare di nuovo il hits flames man dura sto episodio vediamo un po dai fammi la domanda fammi la domanda eh sì lo so ah ok no niente 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 left aspetta un secondo io ci sono già stato o no no non ci sono stato o sì left floor 1 left floor 1 ah sì sì all'inizio aspetta che salvo un attimo non non finisco qui anzi aspetta 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 sì 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 finisco qui l'episodio è durato anche abbastanza per questa volta allora avete visto come si fa e mi raccomando non fate mai gli inviati in live capito mai nei telegiornali che tutto potrebbe essere una bomba addirittura le parole del del trasmettitore o le prove comunque spero che il video vi sia piaciuto e spero che seguirete tutta la serie che si sta avvicinando alla fine no no sto scherzando sto scherzando e ho parlato troppo presto di fine comunque sì spero che vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire la serie ciao a tutti